Allora, vieni... E qua... Un'altra terra, vieni... Allora, se ti guardi che vuoi ancora un punto, sarai che stai mi fanno la testa Ora facciamo, sottolineare D'accordo? Vai ... ... Bene... Il cuore... lo spazio in città di spazzare lo spazzano in questo Grazie a tutti. la sua volta, la sua volontà partita è questa cosa quando cerca di portare la tua alza tu invece abbasso la colore della tua e vai a scena incrociare con il massimo colore con la risarza la scuola è il progetto la scuola è il progetto indietergiato è il progetto la scuola è sci vedi al progetto in questo modo si si e il tutto sè nel Dieci secondi, ultimo salto. Saluto.